C'è posta per te, Belen, Iannone, Greggio, Iacchetti e Signorini per contrastare Ballando con le stelle. C'è posta per te contro la prima puntata di Ballando con le stelle 13, ecco a quali ospiti ricorrerà Maria De Filippi per arginare la concorrenza di Rai 1. C'è posta per te 2018, gli ospiti VIP contro la prima puntata di Ballando con le stelle 13. L'indiscrezione è riportata da Giuseppe Candela Sudago Spia. Finora c'è posta per te ha avuto come competitor su Rai un film in prima visione o in replica e ha stravinto la sfida Auditle. Da sabato 10 marzo, però, la concorrenza si farà decisamente più dura con l'esordio di Ballando con le stelle 13. E, allora, come già accaduto negli ultimi anni quando sono state contattate, tra gli altri, Barbara D'Urso, Luciana Littizzetto, Simona Ventura, anche stavolta si punterà su nomi di peso. Addirittura in questo caso ci sarà una cinquina d'eccezione, nella storia VIP arriveranno, come accade ogni anno, Ezio Greggio e Denzo Iacchetti, che manderanno la posta alla coppia formata da Belle Rodriguez e Andrea Iannone. Guest star d'eccezione il direttore di Chi Alfonso Signorini. Come risponderà a Millie Carlucci? C'è posta per te, il meccanismo del programma di Canale 5. La conduttrice parla al cuore delle persone raccontando storie autentiche e intense, che vedono protagonista la gente comune. Vicende sentimentali diverse tra loro, a volte dolorose, altre volte più leggere, ma sempre capaci di toccare le corde più profonde. La trasmissione è il palcoscenico in cui padri, madri, fratelli, sorelle, fidanzati ed amici si presentano per rimettere a posto una situazione, che sembra non avere soluzione, per riallacciare relazioni perse da anni, per ritrovare una persona cara, per dire semplicemente grazie, ti amo o ti voglio bene parole, che troppo spesso nella vita di tutti i giorni non si è il tempo o il coraggio di dire. Maria, con una sensibilità fatta spesso di silenzi e di sguardi, nel narrare le loro vicissitudini dà loro la parola, li mette a proprio agio e li incoraggia, diventando la loro confidente e punto di riferimento. Nei momenti più leggeri con ironia e sense of humor si diverte facendo divertire il pubblico a casa. Non mancano le storie strappalacrime con le sorprese che coinvolgono i personaggi dello spettacolo. C'è post aperte 2018, ottimi ascolti. Anche grazie alla mancata concorrenza di Rai 1, che ha ripiegato su film già trasmessi e o in prima tv, il People Show è partito con dati audite l'impressionanti. La prima puntata è stata vista da 5.698.000 spettatori, share del 29,32%. La seconda da 5.914.000, 30,12%. La terza da 5.594.000, 28,59%. La quarta da 5.838.000, 29,54%. La quinta da 5.363.000, 28,28%. La sesta da 5.796.000, 29,56%. La quinta da 5.775.000, 30,216.000, 30,215.000, 20,155. Grazie a tutti